Bene amici del S8C World, video che sto girando in 4K con la nuova Panasonic HC-VX870 Una videocamera da circa 750€, una fascia diciamo media di Panasonic Abbiamo lo stabilizzatore ottico dell'immagine attivo Questa videocamera ha fino a 20x di zoom ottico Infatti adesso vi farò vedere uno zoom su quella casa Ora siamo a un 3x, siamo a un 5x di zoom A un 11x, come potete vedere questa è la qualità Lo stabilizzatore ottico OIS funziona davvero molto bene Facciamo magari un 20x Ecco questo è un 20x Ora torniamo un attimino indietro Siamo a 4x di zoom ottico Ripeto che sto girando un video in 4K Facciamo un pan veloce Andiamo a vedere la macchina Vedete Facciamo un po' di zoom anche su quella casa Siamo a 6x di zoom Va bene, ciao ciao